107.000 imprese attive iscritte nel registro, prima provincia del Veneto, nona in Italia per tessuto produttivo. È una delle realtà più laboriose di tutto lo stivale, il territorio euganeo. Da 68 anni la Camera di Commercio di Padova premia il lavoro e il progresso economico. 41 i riconoscimenti assegnati, come spiega il Presidente Antonio Santoconom. È una festa dove noi premiamo imprese, imprenditori, lavoratori e anche professionisti. Tutte persone che sono accomunate è un'unica cosa, una grande passione, un grande amore per il loro lavoro e soprattutto un grande impegno basato soprattutto sull'onestà, la trasparenza e la voglia di lavorare. I premi sono andati a tre imprese che hanno raggiunto il mezzo secolo di vita, 25 quelle con 35 anni di attività, 10 i lavoratori che hanno una lunga storia di fedeltà all'azienda, tre i premi speciali assegnati dalla giuria. Il primo è andato a Dino Cognolato, carrozzieri artigiano, considerato tra i migliori restauratori di auto al mondo. Un premio è andato poi alle cucine economiche popolari. Da 140 anni impegnate nella risposta a situazioni di emergenza sociale, una piccola impresa con 14 dipendenti e 150 volontari. Un riconoscimento infine anche alla cooperativa Vite Vere di Padova, che sviluppa progetti di vita autonoma per persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva, che a primavera 2022 ha aperto Daddy Home, un bed and breakfast con 5 stanze nel cuore della città.